e bella gente giallo qui presente oggi siamo qui con un nuovo video su slender the arrival siamo sulla terza credo missione qua non so cosa bisogna concludere ma credo niente quindi avventuriamoci nella castità sto dicendo ma che caspita lasciamo perdere basta una cosa si è un disbidio familiare comunque sta casa non si può inserla quindi e andiamo la cia parte andiamo capito a parte si sta malinconia mi sa dove andare di là di qua dove si va andiamo a provare a vedere c'è una bella casella che non ci interessa perché di là non si va quindi andiamo di qua all'ola 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 dentro un tunnel allora vediamo vediamo un po cosa c'è va che voce da idiota allora devo andare dritto se non sbaglio devo andare dritto ok ha acceso la torcia finalmente questa voce ha proprio stile ha proprio stile come è uno stile va bene a parte sta voce ha acceso la torcia comunque qua è tutto troppo tranquillo per i miei gusti warning calimen meaning in the event of sudden power loss si vabbè non lo so os cos'è da local park si è allento calmer meaning company vabbè basta mi ho sottuscato le triple mi son rotto capito 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 allora mi sa che qua già che c'è un generatore lì mi sa che devo schiacciarlo come fossero pagine get to the tower no no qua c'è tutto troppo tranquillo infatti tutto troppo tranquillo per i miei gusti need to get out need to get out capito 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 eh no non mi piace sta storia sta storia devo tirare tutti sei generatore quanta gaspita ha detto non capito niente capito ne sono due minuti c'entra già c'ho il cuore in gola allora tutto troppo tranquillo per i miei gusti se andiamo qua per vedere che succede ecco là c'è un generator meglio non girarsi va allora è tutto troppo tranquillo tutto troppo tranquillo no lì non c'è sono già due no 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 aha mi sono giusto di colpo perchè non si sa mai che potrebbe capitare davanti ho capito allora eccolo l'altro e sono già tre giusto sì a tre quattro dai spero che vinco sono a quattro ne mancano due due spero come compare slender sono a quattro andiamo di qua per favore slender lasciami in pace per una volta dai madonna mia mi sono spaventato come uno scrunzo no 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 andiamo di qua no 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 scherzo no no mi sono spaventato dov'è mettere per piangere stavo mettendo basta a 4 ma che cavolo è quella la e poi ma come si permette a un po' meno scatote di bollo come si permette eccola di nuovo lì disgrazia di aver prenduto un attacco di allora saliamo lì sopra perchè sennò non riusciamo a vivi slender tu non puoi comparire fallo per me dai mancano due dai non ho fortuna come l'altra volta che l'altra volta tutte le pagine l'ho aperta subito mmm non mi devo fermare da quanto ho capito eh ho capito bene mi sa teniamo luce così vediamo se rompe la scatola no non posso eccolo eccolo il quinto slender il sesto eccolo qua si ce l'ho fatta al primo colpo meno male non mi prendo la scensore se ci arrivo madonna mia c'è la ragazzina madonna se mi prendo la terza volta sono fritto come un come un come dei bassuncini findus di giuseppe simone io mi sa che sono freddo come come dei gamberi lo spiedo non posso girarmi bambino idiota non posso fermarmi non posso fermarmi dai arriva la scensore arriva la scensore arriva la scensore sono fuori ce l'ho a te c'è ce l'ho a te c'è dai dai che c'è la freccia no 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 ho perduto ma che idiota ma che idiota sono tutta la capa si si caspita sono un cretino sono che caspita ma che caro mi sono girato a fare testa di bacinella che non sono l'altro ma sono testa di bacinella proprio originatori sono cambiate chi li trova più adesso eh si già una qui già si capisce tutta la storia eh già il terzo caso strano lì non mi convince la storia porca bacinella adesso sono a tre e tra poco mi prende sicuro dai padre sintos si padre sintos che caspita no qua non c'è un generator porco generator qua nemmeno quindi tutto tutto troppo tranquillo io cretino mi sono girato come un cretino ma io non lo so io ma perché basta non parlare più sono qua sono c'è un disguido familiari ero ero a un a un pelo della vittoria e guarda caso mi sono fatto fregare come un un maniaco ah non c'è e mo dove sono eccolo qua sono c'è un'altra gli altri sono di là sicuramente se mi fa arrivare ma io non lo so io che idiota che sono 4 chi caspita è slender sei un cretino capito basta comunque sono 4 sono cinque hai capito luca mada fischer sono cinque dai che ce la posso fare santa barilla ecco la bambina che sale dalle scale cretino ma vai a giocare con le con le fiendus sono cinque comunque qua non mi piace sta strada no no sono cinque e non ci arriva sei perché c'è slender la bambina porca luce mia eccolo il generator no slender stupido non venire da pescato ma la faccio due sono sei dai cosa fa non giriamoci più e caminiamo a fare i deficienti dai su 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 basta guarda la slender non giriamoci che è meglio no meglio girarci sono cinque si sono cinque un cavolo per un pelo ce l'ho fatta cosa devo fare qui adesso boh è finito il livello beh che dire il video sto po' qui perché sennò poi la quarta parte non la faccio più quindi bella gente jolly era qui presente ci vedremo con un altro video con un altro slender va bene bella 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 Grazie.